Ben trovati amici, appuntamento con l'informazione di Teleible. Oggi è il primo di aprile e come tutti sanno è la giornata degli scherzi, il pesce d'aprile. Perché si dica o si facciano gli scherzi il primo d'aprile? Dice che è una cosa che risale addirittura al tempo dei Romani, oppure prima del calendario che abbiamo ora perché si spostarono delle date e alla fine ci fu questa abitudine di scambiarsi dei regali, ma soprattutto dei regali assurdi che poi diventarono degli scherzi. Allora due cose, uno in questo primo d'aprile purtroppo non è uno scherzo, c'è stato comunicato che il 29 di aprile, quindi dal 29 di aprile al 2 di maggio ci sarà lo switch off delle televisioni, quindi il 29 di aprile tutte le televisioni private dovranno staccare e poi verrà risintonizzato per trovarsi con il nuovo sistema, se ci si ritroverà perché anche quella è un'incognita alla quale non siamo neanche tanto preparati, non sappiamo come va a finire. Ecco questo e quindi dobbiamo andare a vedere che cosa succede e questo non è uno scherzo, è stato deciso il primo di aprile, il 29 si dovrà spegnere e via via tutta la Sicilia dal 29 di aprile al 5 di maggio si spegneranno le varie zone. L'altra notizia che invece è proprio un pesce d'aprile è circolata in tutta la nostra provincia e che il sindaco di Modica, lo vedete Ignazio Abate, avrebbe dato la sua disponibilità per fare il candidato a presidente della regione, simpatica, una cosa molto simpatica e quindi un attimo in più di celebrità per Ignazio Abate che è uno che sicuramente si candiderà e di questo parleremo. Però sicuramente è un pesce d'aprile che non è candidato a fare la presidenza anche perché per fare la presidenza della regione ci sono tanti problemi. Iniziamo a proposito i problemi proprio dall'area di centro-sinistra, la coalizione, la coalizione giallo-rossa, prima era una coalizione giallo-verde, ora è una coalizione giallo-rossa, cioè c'è in mezzo il PD, giallo sarebbe il 5 Stelle, le prime verde erano la Lega, insomma ora la coalizione è ferma su questo centro-sinistra con i 5 Stelle. Allora si era parlato tanto, ma chi lo fa è il candidato, chi non lo fa e qui c'è stata una scelta devo dire anche abbastanza condivisibile perché piuttosto che fare come sta succedendo nell'area del centro-destra, ammazzarsi e dirsi male parole, dire ah tu come mi hai trattato e io come ti ho trattato, invece il centro-sinistra con forse un po' più di stile ha deciso di fare le primarie e devo dire che il PD è sempre stato abituato alle primarie, l'ha sempre utilizzato questo metodo. Allora noi qua vediamo tre rappresentanti importanti di questa coalizione, vedete Claudio Fava, Toni Barbagallo e Giancarlo Cancelleri. Per Barbagallo penso che sia in questo momento un'indicazione di partito, perché ci sono altri nomi che circolano, per esempio le male lingue dicono che la più titolata per il PD sarebbe la Chinnici, quindi sarebbe Fava, la Chinnici e Cancelleri. Questi qua, questi tre dovrebbero essere valutati dal grande popolo della coalizione e chi ne viene fuori, chi vince farà il candidato del centro-sinistra. Dicevo, una soluzione che era nell'aria, ma anche perché non è bello spacchettare e spezzettare tutto prima, perché poi dopo che si fanno tante male parole, poi è difficile recuperare, no? Ma tu mi hai detto questo, io ti ho detto quello. Quindi tante volte è meglio non esagerare, come lo abbiamo detto a Biden di non dire macellaio o a Draghi di non dire tiranno o despota quando parlava di Erdogan. Vabbè, quindi questa è la situazione, la notizia più importante per quanto riguarda il PD. Chi è che si bisticcia tanto? Soprattutto il centro-destra, soprattutto Forza Italia, dove Forza Italia con la sua corrente interna, ma anche con il tentativo di coalizzare tutti per fare un centro-destra forte, ma c'è una pregiudiziale oggi, in questi giorni, che è la pregiudiziale di Michichè nei confronti del presidente Musumeci. Non correva buon sangue e ancora oggi sempre di più. Abbiamo preso questo pezzettino di una trasmissione sul web che abbiamo estrapolato il giudizio di Gianfranco Michichè su Musumeci. Vediamo.